Non posso fallire, fallire in modo diverso intendo, cioè CRASH! No! Grazie a tutti. 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 Ti sei travestito da me, eh? Beh, sono te dal futuro, brutto idiota. Io non sono un idiota. Tu sei idiota. Idiota. Prendetelo! Aiuto! 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 Non ti batti. Non costringermi a... Qualcuno mi aiuti! Abbiamo un problema con un sosia malvagio! Io non sono un sosia, sono... Lascia perdere. Noi non sono un riso. Non sono un riso. Non sono un riso. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!